Supporto Taki Kikomori, sono Francesco, come posso aiutare? Sì, salve. Salve. Vi ho contattati perché ho avuto un problema con il mio ultimo acquisto. Guardi, il nostro è un servizio di consulenza gratuito in merito alla cultura giapponese, ma non vendiamo alcun tipo di prodotto. Ah, capisco. Mi può mettere in contatto con la divisione che si occupa del supporto clienti per ricevere il rimborso? Sì, sì. Ma che se ne è capito? No, forse non ha capito. Senta, mi dica cosa è successo e vedo che posso fare per lei. Sì, allora, ho acquistato su Amazon il primo numero di un manga. Consegna puntualissima, ma il problema è che è tutto al contrario. Intende che le scritte sono al contrario e quindi è illegibile? No, intendo che se vado alla prima pagina in realtà è l'ultima. Ed il bello è che ho già fatto due volte il reso e me lo hanno rispedito sempre con lo stesso problema. Ad un certo punto pensavo mi stesse sorprendendo in giro, mandandomi sempre lo stesso volume e così ho strappato una pagina a caso, ma ho controllato e a quanto pare me ne hanno mandato ogni volta uno diverso, ma sempre con lo stesso problema. Lei mi sta dicendo che il problema è la lettura da sinistra verso destra. Esatto, si rende conto. Per leggerlo dovrei iniziare dall'ultima pagina, che poi fosse un manga poco conosciuto, ma è il famosissimo Bleak. Mi scusi, puoi ripetermi il titolo? Bleak? Non lo conosce? Bleak, sì. Allora, guardi, non c'è nessun errore, semplicemente i manga vengono stampati e letti da destra verso sinistra, perché in Giappone si scrive e si legge da destra verso sinistra, precisamente dall'alto verso il basso, tutto qui. Per cui non c'è nessun tipo di errore o problema nel suo ultimo ordine. Ma guardi che sta dicendo un'inesattezza madornale. Io ho acquistato tutto Stainsgate e l'ho letto senza nessun problema. Lei ha letto tutto Stainsgate da sinistra verso destra. Certo. E non le è venuto alcun tipo di dubbio mentre lo sfogliava. Del tipo? No, guardi, mi scusi, errore mio, errore mio. Le consiglio di chiedere un'ultima volta una sostituzione e di specificare in una nota io leggo manga da sinistra verso destra. Loro capiranno. Va bene. Grazie. Si figuri. Le ricordo che dopo il suono acustico che sta per sentire potrà lasciare un commento in merito al nostro servizio che spero l'abbia aiutata. Le auguro una buona giornata. Sì, sì, anche a lei. Arrivederci. Il customer service è stato pessimo, non risolvendo il mio problema. Penso di aver parlato con qualcuno che se ne intende poco della cultura giapponese o sicuramente meno di me. Ma lo capisco. Una volta ero anch'io come lui. Sta di fatto che non mi ha aiutato. Per cui spero prenderete provvedimenti contro di lui e soprattutto contro chi stampa i fumetti al contrario. In caso voleste mandarmi BLEAC stampato come si deve, il mio indirizzo è via Barsoli35 in corso Vittorio. Grazie, grazie. Abbiamo registrato il suo messaggio. Vi auguriamo nuovamente una buona giornata. Ah, va bene. Distinti saluti. Sì, sì. Distinti saluti a lei. Ho appena parlato con il paziente zero della Karen, praticamente.